In italiano, Enrico Bernardo, piacere di conoscerla qui in Ausassia, che puoi dire per il brasiliano che stanno iniziando in questo lavoro meraviglioso del vino? La sommelleria è un lavoro fantastico che permette di viaggiare, di incontrare clienti sempre nuovi e diversi, produttori di vino, è un mestiere nel quale si impara tutti i giorni, quindi è un mestiere in cui non ci si annoia mai, quindi tanto coraggio e tanta fortuna. Agora Enrico, mi dica che in Brasile il vino sta in un stadio molto particolare, molto snob, molto snobismo, e questo penso che non è buono per il vino, che non è una... Sono periodi, sono ciclici, dopo un po' ritorno un po' alla normalità, però fa anche del bene, perché magari spinge ad alcuni a fare diversamente, poi gli equilibri si trovano sempre. Magari! Grazie mille! Molto obbligato!